Zan Nagy! Contro di lui, all'angolo rosso, al peso di 79,4 kg, in pantaloncini nero oro e con un record a professionista formato da quattro incontri discusati. Quattro vittorie per lui, una delle quali per KFO. Al suo angolo, Paolo Sperandio con Marco Travascio per la BBT Production da Roma e per l'Italia, Adriano Sperandio! E' la prima ripresa! La prima ripresa! No! Ok? Bocs! Sì! 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 E' nemmeno qui! Non ripropa, non ripropa! Maia ni! 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 Sì. . . . Non vieni qui. Tranquillo, vieni, vieni. No! Amiga mentre però! Proprio che c'è un pollo! Non c'è un pollo! Ma che c'è un pollo! A bè alasciò oggi! Ma che c'è un pollo! C'è un pollo! Ma che c'è un pollo! No! E' un pollo! E' che c'è un pollo! E' il testo! E' il testo! E' il montante! Passo dietro! Sinistro! 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 E' il testo! o a fa il bambino, non vengono. I perni 30 anni non sono le braccia ... ... No, vedi te, giungi la città e passi. ... Vedete e quando vedi, vedi i bambini. ... ... ... E riparti col destro, no? E riparti col destro, no? Eccolo! I Tira, io lo voglio sì! Tira, lecce! Mezzo bassofo è! Mi ha nato! Cos'erre ne kell fogni? Falvoli opporogti mi? Próbad me! Tira, lecce! Tira, lecce! Tiz massoz per! Tira, tira! Tiz massoz! Tira, lecce! Tira, lecce! Tira, lecce! Ciccada! Cinque minuti! Metinga! Mi chiamo Valerio! Cinque minuti! Tira, lecce! Tira, lecce! Tira! Tira, lecce! Mettiamo! Tira! Tira! ...ce l'hai lì! E' dentro! ...ce l'hai lì? ...ce l'hai lì? Bravo! E' di Mena! E' di Mena! Bravo! Ehi dai dai spingi! Spingi a Triasso! ...dai! 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 Metteci prima il jab! Fai gli usci prima quel gancio sinistro! Papa come ti pare? ...dai! 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 qui è nato, prima vi diretti e vedi quello che fa metteci pure un po' di gambe mezzo passo e riparti non lo fa recuperare, è su le mani mezzo passo, mezzo passo devi far fuori patria non lo fa recuperare, dagli fastidio sempre via, via, dagli fastidio non lo fa recuperare, via, via, dagli addosso via, dagli addosso via, 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 subito riprendilo, riprendilo attenta a questo non lo sa, non lo sa non lo lasciare Adriano solo il gancho sinistro dai che c'è più calote forza mezzo passo, mezzo passo e li mette la misura subito eccolo è una spegato più caricato però via 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 subito via subito vai Adriano io non lo farò superato e caccio testo eccolo eccolo esci sempre a mani alte via via adesso qua dentro ti ha accusato Adriano devo far recuperare troppo e questo se gliel'hai persinato è fatto dai attento quando esci però queste le mani alte dai 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 a misura Adriano a misura spingi un pochetto o no no dai Adriano dai Adriano ma mezzo passo dietro, metti ste gambe, Adrià Adrià, ti vuoi che sei più convinto però dai forza a cura bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, a misura tua, Adrià a misura tua stupido manda via queste braccia manda via queste braccia sciolte, Adrià stai a misura cerca di far partire un po' più queste braccia, Adrià stai, Adrià anche il gatto sinistro si porta in velocità, oh, giovanone no, ce l'ha giù, ce l'ha e tagli, eh e tagli, eh a dià, sta giù, provi non ti buttati eccolo lì, adesso mezzo fuori ancora passo giocino bravo 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 fai mezzo fuori adesso lì, lì non lo c'ha, non lo c'ha, Adrià così via vai via, il passo piano riparte e la sua mano riparte, Adrià adesso che ci ha guardate che fanno via così subito adesso subito albito la croccia però Adrià, li lavora in serie quando lo stai chiuso forza 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 albito eh Adrià, dai, più più reattivo tre mani, eh e tu, rientro lì, no bello via, 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 via vai, via, tre colpi, è ora uno, due, fuori no, fuori, dai via viattivo, eh no, cazzo, cazzo dai, tu eh guarda, fa fai 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 farla sempre destra fai fai che lontano arriba lontano da lontano adesso ripallo oh si bravo o a dira tiragli quel montante dai 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 E' la setta ed ultima ripresa, this is the last round Guarda che c'è prova eh, con Crocimeglio che c'è prova Ferma l'Adriano, non lo fa arrivare Dai, Adriano! Adriano, diamo un po' qua, misura su qui dentro Dai, Adriano, rimandalo da giungla Arrivato Por dentro Non lo fa recuperare Dai, 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 dai Subito, Adriano, rimandalo Ancora Adria 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 E' l'introfo Un quarto d'ora che ammetto e non l'introfo Vai, via, via Via, via, via Che totito Adria 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 Adria, provižimo Provižimo Adria 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 Ed è la fine dell'incontro, siamo al verdetto, vince questo incontro ai punti, Adriano Perendrio! Pimparrinello! Il incontro è il signor Francesco Ramacciotti di Roma, all'angolo blu, al peso di 56.400, il pantaloncino nero bianchi e con un record a professorista formato da otto incontri disputati, quattro vittorie per lui, due sconfitte e due pari, al suo angolo Antonella Rossi con il catman Federico Camizzone, per la BBT Production, nato in Romania, residente ad Ostia, Gheorghe Tranapir! Il suo avversario, all'angolo rosso, al peso di 56.300, il pantaloncino nero argento e con un record a professorista formato da sette incontri disputati, sette vittorie per lui, una delle quali per Capò, già due volte olimpionico, campione italiano in carica dei pesi Super Gallo, al suo angolo Giuseppe e Francesco Corvo, per la BBT Production, da Alife Caserta! Vittorio Gnocchi Barrinello! E' la prima ripresa! E recrario Gnocchi Barrinello! E' la prima ripresa! Fai Sala-ah! Esa mappa vivelle! E' la prima ripresa! E' la prima ripresa! Pagio! 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 Grazie a tutti. 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 E la terza ripresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stop. Stop. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Bermuda. Grazie a tutti. Basta. Grazie a tutti. è la quinta ripresa. Bermuda. 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 Bermuda.